A quattro giorni dalla sfida spareggio tra Avellino e Lanusei ancora non si conoscono le modalità di acquisto dei biglietti. Spot migliore per un campionato nazionale dilettante di nome e di fatto non poteva esserci. Tutto questo perché soltanto domani mattina, pensate, soltanto domani mattina, quindi di giovedì, dopo il tavolo tecnico in questura a Rieti, ci sarà il comunicato ufficiale in cui scopriremo finalmente quanti biglietti saranno messi a disposizione della tifoseria erpina. Inizialmente dovrebbero essere 3.500, successivamente di più se andranno ad essere esauriti questi sarà concessa anche una tribuna. Ebbene, soltanto dopo scopriremo come e quanto costano e dove acquistarli. Dovrebbe essere anche in questo caso il circuito Etes. Il costo, dicevamo, potrebbe oscillare tra i 16 euro e qualcosa verso i 20, proprio perché si tratta di una tribuna. Il perché di tanto ritardo? Perché, a quanto pare, la Lega Nazionale Dilettante intende anche fare un unico comunicato con l'altro spareggio in programma, quello tra Modena e Pergolettese. Insomma, per questa sera rassegnatevi, soltanto domani mattina, probabilmente verso mezzogiorno scopriremo come fare questi biglietti. Passando invece al campo c'è da registrare una flebile speranza per Nando Sforzini, perché l'attaccante proseguirà un programma stabilito anche con lo staff medico per cercare di andare almeno in panchina contro il Lanusei. Un po' lo stesso discorso vale per Bernardotto dei Sardi, anche se in questo caso le chance di poter essere in campo invece dal primo minuto sembrano aumentare con il passare dei giorni. Per adesso sono queste le ultimissime in vista di uno spareggio che vale un campionato.